Tiziano Fratus, poeta, uomo radice e spiegheremo poi bene perché. Ha fondato nel 2007 l'edizione Torino Poesia, oggi edizione della manifattura Torino Poesia, dove trovano spazio, e questo è molto importante, le nuove voci della poesia torinese e piemontese. Per Fratus la poesia è un prodotto della terra, Fratus è un poeta tradotto in tutto il mondo. Benvenuto Tiziano. In tutto il mondo, diciamo, in buona parte, ci tieni a specificare, in alcuni paesi, però importanti. Ogni paese ha la sua importanza. Bene, cominciamo adesso questo percorso nella tua storia personale, poetica e narrativa, con la copertina del libro Homo Radix e appunti per un cercatore di alberi. Tu scrivi di alberi, li fotografi, li ami. Citi anche una frase di Wallace Stevens, l'uomo è l'intelligenza della sua terra. Ecco, perché mettere insieme poesia e alberi? Forse nel 200 veniva anche abbastanza facile. Perché oggi, nel 2000? Perché l'albero innanzitutto è un simbolo, è un simbolo fra tutto ciò che è profondamente terrestre, che è tutto ciò che è radicale, sia da un punto di vista di identità, l'identità dell'essere umano, l'identità della terra, l'identità di ciò che è l'essere vivente. E dall'altra parte il rapporto invece con tutto ciò che è aereo, che è immaginario, che è proiezione. E quindi l'albero è un simbolo ancestrale e però anche contemporaneo di questa unione fra materia e psiche, immaginazione e proiezione. Per cui questo simbolo è un simbolo come dire eterno, per cui è sempre presente nel 200 come nel tempo presente. E questo mio amore per gli alberi nasce ovviamente da molte cose, nasce dal fatto che amo il paesaggio, la mia poesia, io quando parlo della mia poesia parlo spesso di poesia ambientale. Ma scusa, tu dici tra l'altro che reclamo che il mio peso venga valutato in radici. Sì, ovviamente sono due versi che compongono la più breve poesia che abbiamo scritto, che si chiama Preghiera dell'uomo radice e che però ben sintetizzava proprio anche questo libro, questo Homo Radix. Spiegarla diventa molto lungo e molto complesso. Diciamo che è un modo per esprimere questa mia voglia di avere un rapporto stretto con tutto ciò che è l'elemento naturale. Tu dici, Homo Radix è un sogno, cuci insieme la poesia, la letteratura, la botanica, l'ecologia, il camminare, il respirare, l'osservare, la fotografia, la ricerca e la scoperta, la realtà, l'immaginazione. È un libro che vive, che cresce, che si modifica e si adatta, si evolve. Bellissimo. Grazie. Ma è così. Io penso che un buon libro è un libro che comunque nel tempo prende vita, in qualche modo, quindi che riesce a rendere conto dell'identità dello scrittore che l'ha generato, che l'ha scritto, ma in qualche modo poi nelle mani del lettore riesca a prendere una sua vita, una sua identità nuova. Tra l'altro è un bel libro, ricordiamo, che è pubblicato dall'edizione Marco Valerio, Manifattura Torino Poesia. Quindi anche se Natale è passato, rimane, questo è il mio consiglio, un buon regalo anche per gennaio, febbraio, marzo, sempre. Natale si può festeggiare tutto l'anno. Ecco, tutto l'anno. E adesso passiamo a una seconda fotografia e restiamo sempre in tema, perché noi abbiamo Un Carrubo Millenario, che tu hai incontrato in Sicilia durante i vagabondaggi alla ricerca di alberi secolari. Quando si parla di vagabondaggi, mi vengono in mente i poeti della Beat Generation, che erano dei vagabondi della poesia, della strada, della letteratura. Sì, della vita proprio. Sì, quelli ovviamente sono scrittori che molti della mia generazione ne hanno amato e amano continuamente. Tra l'altro andando proprio alla ricerca di alberi in California, sono arrivato fino a Big Sur, che è la storica cittadina sull'autostrada numero uno, che collega San Francisco a Los Angeles. E lì, proprio in questa cittadina dove hanno vissuto per un po' di tempo sia Kerouac che Miller, ho avuto il piacere appunto di vedere i loro posti, vedere i boschi che loro andavano a frequentare. Parlo ovviamente soprattutto delle sequoie, le famose sequoie del Pfeiffer Park. E lì ho visto anche per esempio la Library, Harry Miller Library, che è stata fondata da quello che era il migliore amico di Miller lì a Big Sur. E tra l'altro sia la mia poesia che quella di un altro poeta di Novara, sono state tradotte in inglese e pubblicate su questa prestigiosa rivista. E tra l'altro parlando della Beat Generation, bisogna dire che tu nel vino di Allen citi l'incipit di Urlo e di Ginsberg, che è uno degli incipit forse più famosi della storia della poesia. Sì, l'incipit decisamente più famoso della poesia, del poema. Perché ho visto le migliori menti delle mie generazioni, distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, andare per strade, negri all'alba in cerca di droga. Clamoroso. Sì, assolutamente, clamoroso e che ha ancora oggi molti epigoni, nel senso che è ovviamente l'idea del poema totale che parli del proprio tempo, della propria identità e al contempo della propria generazione. Ecco, ti sono chiedi, ma qual è stato il tuo primo poeta? Ma il mio primo poeta, diciamo che il poeta che mi ha incuriosito, che mi è sembrato proprio diverso dagli altri poeti che conoscevo, che erano i poeti scolastici, diciamo, è stato un poeta americano, si chiama John Giorno. Sì, tu per John Giorno, insomma, c'è una malattia da parte tua, no? Non proprio una malattia, non è una malattia. No, è un'ossessione letteraria però, perché ti piace, poi hai dedicato anche a una poesia, no? John Giorno, che non è Jacques Genot, che sono due diversi, Jacques Genot è un altro, si assomigliano come nomi, ma non sono la stessa personaggio. Ma John Giorno è stato interessante perché ero un ragazzino, avevo 18-19 anni, la mia generazione è stata formata molto anche da Rai 3, il programma di Ghezzi, all'ilà di Ghezzi, lui come personaggio, ma i film, i documentari che abbiamo potuto vedere, il sabato notte per tanti anni, per la mia generazione sono stata una vera boccata d'ossigeno, perché comunque molti di noi hanno scoperto dei mondi del cinema, dell'immagine, che altrimenti probabilmente la programmazione abituale della televisione commerciale piuttosto che della televisione della Rai non offrivano. E i documentari appunto sono stati fra queste belle scoperte. E anni fa ci fu questo video girato da un italiano a New York, proprio nell'appartamento di John Giorno, in cui si parlava di questo strano poeta omosessuale, l'ultimo della Big Generation, che era stato amante, amico di tutti i personaggi protagonisti della Big Generation, ma essendo molto più giovane di loro è arrivato fino ad oggi. E soprattutto lui è stato un poeta molto particolare perché era un poeta che ha giocato moltissimo con le immagini, con le magliette, ha sempre fatto magliette particolari con uno stile tutto suo. E a Gisberg anche con la musica, quindi c'era anche questo fatto di… Sì, loro sono venuti fuori quasi tutti con un grosso rapporto con la musica, soprattutto con il jazz, che era ovviamente la musica dei loro anni, quel jazz là quantomeno. e lui appunto da giovincello ha girato i video di tutta la loro generazione, poi ha iniziato a scrivere poesie ed è arrivato fino ad oggi. Ed è a New York una delle figure più importanti della poesia, di un certo modo quantomeno di fare poesia. Poesia che appunto ha a che fare con l'oralità, per cui lui incide più dischi che non scrive libri, questa è una cosa particolare, che per me, che ero abituato da ragazzino allo studio della poesia, della letteratura distratta, devo dire, sui libri di scuola, ovviamente era un mondo nuovo, completamente nuovo. E quindi lui è stato il poeta che in qualche modo, la cui conoscenza mi ha… Aperto degli orizzonti. …acceso, sì, delle curiosità. Qua si apre questa finestra e si scopre un mondo nuovo. Il contatto con un mondo completamente ignoro, sconosciuto, ma esistente e poi appunto quando uno poi fa un po' di ricerche si rende conto di quanti poeti, di quanti scrittori, quanti artisti hanno poi percorso quelle strade. E quindi questo è stato il primo mio vero poeta che mi ha messo anche in testa l'idea che potessi scrivere qualche cosa di decente attraverso la poesia.